Il vincitore del Leone d'Oro al 78esimo Festival del Cinema di Venezia. Quel tipo continua a guardarti. Sono terribili i tuoi amici. Più che terribili sono frustrati. Qui tutti cercano la stessa cosa, ma non lo ammettono. Signorina, lei è incinta. Sono desolato. Non è possibile. Alla peggio, ci sono dei modi. Non dirlo mai più, nemmeno per scherzo. Era ammalata? Il genere di malattia che prende solo le donne. Pensi che passerai gli esami in questo modo? E che ne sai tu degli esami? Se facessi quello che mi chiede, finirei in prigione anche lei. E non è la situazione peggiore. È troppo tardi. No. Se ne vada, non abbiamo altro da dirci. Ti darò un biglietto con l'indirizzo di una donna. La signora Riviere. Se vuoi tentare, è a tuo rischio e pericolo. Molti medici sono contrari all'aborto. Non pensano che le donne abbiano il diritto di scendere. Vuole ancora insegnare? Vorrei scrivere. Dal romanzo autobiografico di Annirno. La scelta di Ann. Levenmo. Dal 4 novembre al cinema.